Cos'è il bullismo? Per me il bullismo è un comportamento, è una forma di sottomissione da parte del bullo, cioè un soggetto più imponente, nei confronti di un soggetto meno imponente, cioè più debole. La ultima. Per me il bullismo è il comportamento sbagliato da parte del bullo nei confronti di un soggetto più debole. Quali sono i compostamenti del bullo? Il bullo è molto aggressivo, può rubarti la merenda e ti può offendere con parole molto brutte. Come dice il detto, le parole fanno più male gli spiassi. Il bullo può picchiarti, può fenderti con parole, può fare altre cose che ti fanno chiudere in se stesso. La vittima non mangia, non parla, diventa sociale e si vede sempre di più in se stesso. Cosa faresti se fossi tu una vittima? Io lo direi subito ad un adulto, un professore oppure ai miei genitori, ma soprattutto non lo attaccherei io di seguito e non spenderei solo con l'intelligenza e con l'inomia. Io lo direi ai professori e poi anche ai miei genitori. Se vi è piaciuto mettete un bel like e seguiteci sul nostro canale. Ciao!